Talè, allora i centri per disabili stanno vivendo un momento di difficoltà, lei si è fatto un po' carico della loro voce e ha portato in regione queste loro problematiche? Sì, i centri diurni per disabili, i centri diurni, i centri anche residenziali, ma soprattutto i diurni, io sono a contatto un pochino in tutta la regione con questi centri di tutta la provincia e quindi anche della regione, sono in difficoltà per questa DGR, quindi questa delibera della giunta regionale che a dire il vero risale al 2014, ma è alla fine del 2014, a dicembre 2014, ma che è operativa dal 2015, quindi a giugno 2015 siamo arrivati noi e l'abbiamo resa operativa. Questa DGR li mette in seria difficoltà soprattutto per un motivo, il motivo principale è quello che fissa nel numero dei 10 gravi per ogni centro e ci sono dei centri dove di gravi ce ne sono 12, 13, 14, 15, insomma non è detta che ce ne siano soltanto 10 e questo cosa fa? Questo dal punto di vista economico mette in difficoltà la cooperativa che gestisce questo centro, perché la mette in difficoltà? La mette in difficoltà perché la regione riconosce un quid per ogni disabile se è grave oppure se non è grave, se non è grave 15 euro, se è grave 43 euro al giorno. Il secondo problema invece, sempre relativo a questo fissare il numero 10 per ogni centro diurno, è quello che tutti i centri hanno 10 disabili gravi e quindi fanno difficoltà a fare nuovi inserimenti. La criticità più grande è questa, ho fatto una proposta, quindi una mozione, una mozione alla giunta per cambiare appunto questa DGR il più presto possibile. Quale sarebbe la miglioria che si potrebbe portare? Ma è semplicissimo, cioè il disabile quando entra nel centro diurno ha già una scheda OMEA, quindi già c'è l'OMEA che ci dice in che stato si trova la disabilità del soggetto. Guardare questa scheda e in base alla scheda considerare il disabile se è grave o meno.